Nel percorso di un giovane rigbista la Nazione Under 20 è diciamo un obiettivo a breve termine, nel senso che l'obiettivo è un passo nel cammino e comunque sia è un onore ma dall'altra parte c'è tanto lavoro dietro per arrivarci e ci sarà altrettanto lavoro da fare mentre sei nell'Under 20. Ovviamente essere nell'Italia Under 20 è un grosso peso nel senso che hai la maglia della Nazionale addosso, il tricolore sul petto e ogni volta entrare con quella maglia e difenderla è bello ma allo stesso tempo anche diciamo pesante nel senso di dover onorarla. Essere capitano dell'Under 20 è un grandissimo onore, quando me l'hanno detto ero veramente emozionato e è un bel ruolo nel senso hai tante responsabilità e comunque sia anche i tuoi compagni vicini che ti sostengono e ti aiutano e diciamo che sei il giocatore che deve dare l'esempio sia in partita che fuori dal campo è un grande onore, è veramente un ruolo pieno di responsabilità. Dopo il mondiale dell'Inghilterra e la vittoria col Giappone c'è stato un nuovo ciclo che sarebbe quello del 97, dei ragazzi nati nel 97 che restano nella Nazione Under 20 e i nuovi ragazzi del 98 che salgono quest'anno per la prima volta, affrontano un senazione e un mondiale a giugno e si è creato un bel gruppo, ci sono i ragazzi del 97 che magari hanno più esperienza, tipo me, Masselli, Rimpelli che possiamo aiutare questi giovani ragazzi, questi ragazzi nuovi ad integrarsi nel gruppo e dare il meglio che hanno nelle partite che ci aspettano. Ovviamente quello che consiglio sempre ai ragazzi quando affrontiamo delle partite è di semplicemente stare tranquilli e dare il loro massimo perché entrando, se entri in campo e sei agitato o sei nervoso, non ci sei con la testa è difficile dare il tuo massimo, quindi questo è un consiglio che do sempre ai nuovi ragazzi, anche su Amicori che abbiamo fatto con altre squadre. Gli obiettivi dell'Italia Under 20 per questo 6 Nazioni è sicuramente vincere più partite che possiamo, abbiamo i mezzi e le possibilità per farlo e sicuramente ci proveremo.